Signora, vado in ospedale, non me ne frega niente queste bucciature, non me ne frega niente, sono qui per farlo su quel luogo a vedere come è la situazione, se penso di venire qui perché noi vi convinciate di una cosa, punto, e allora, punto, io me ne vado via, sono qua, e purtroppo non me ne vado via, perché mi sono qua per vedere, ok? Io rispetto è reciproco e se uno mi disistima, sappia che la disistima è reciproca, certo, 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 mi hanno detto di venire a farlo sopra il luogo, non sono vinto a cenere, non urli a cosa di venire, perché adesso non mi rinvito a cenere, no, ti rinvita, no, perché ci ho fatto il furbo conciato, non mi rinvimi gli occhiali, perché non vanno a fare la vita, colpisci, 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 si capisce tutto, ti capisci chi sei, ho le mani vienze, vai, io so ti vincolo, e rappresenti le istituzioni, io so, attrappano i metti che rappresenta, e si prendi gli occhiali, 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 certo, perché lui, e lui, i diritti delle persone, le fa rispettare, non arrivo a peppello, ma chi ne ha toccato, perché a quest'ora non camminavi sotto le gambe, ma stai scherzando, non fai così a casa degli altri, è educazione, educazione, No, 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 no.